Da giorni in via Soiuzzo nel comune di Ischia erano in corso lavori per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. I carabinieri della locale stazione insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli e della stazione forestale di Casamiccio-Laterme hanno ispezionato l'area e rilevato molteplici irregolarità. Denunciato il titolare della ditta subappaltatrice per non aver redatto il piano di sicurezza. Per l'appaltatrice una ditta diretta da un ventenne di massa di somma, una denuncia però messa vigilanza sull'esecuzione dei lavori. Nei guai anche la responsabile della sicurezza del cantiere per omesso controllo sulle norme in materia di lavoro e di sicurezza. Per il titolare di una seconda ditta appaltatrice una denuncia per non aver redatto il piano di sicurezza, per omessa formazione del personale e omessa visita medica del personale. Di quest'ultima società tre lavoratori impiegati erano in nero. La sanzione combinata supera i 10.000 euro. L'area, ampia circa 150 metri quadri, è stata sequestrata. La notizia diffusa dai carabinieri di Ischia ha fatto molto scalpore dato che si tratta di lavori pubblici. Ignaro ovviamente il comune di Ischia che ha preso subito le distanze con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio. In merito alle irregolarità, si legge nella nota del comune, rilevate dalle forze dell'ordine presso il cantiere di via Sojuzzo, il comune di Ischia comunica la propria stranità, le gravi inadempienze della ditta incaricata dei lavori per il rifacimento nei marciapiedi su via Sojuzzo. Si fa presente che il cantiere oggetto di sequestro da parte dei carabinieri attiene al secondo lotto di lavori appaltati. Il primo, che riguarda il primo tratto di via Sojuzzo da piazza degli eroi al bar La Violetta, non ha evidenziato alcuna irregolarità da parte della ditta incaricata che tra le altre cose non è la stessa che si è giudicata il secondo lotto dei lavori. Inoltre, proprio nei giorni scorsi, in seguito a verifiche dell'ufficio tecnico e della direzione dei lavori, la ditta era stata già oggetto di controlli durante i quali è stato riscontrato l'utilizzo di materiali non confacenti a quelli indicati nel capitolato d'appalto. Dunque, la ditta era già stata diffidata affinché si rispettasse quanto previsto nel bando di gara giudicato. Le irregolarità emerse poi in seguito ai controlli delle forze dell'ordine sono gravissime e per questo motivo il sindaco Enzo Ferrandino ha già provveduto a dare mandato all'ufficio tecnico e all'ufficio legale affinché si intraprendano tutte le iniziative necessarie a tutelare gli interessi e l'immagine della comunità ischitana. Il sequestro di 30 giorni, che riguarda, come detto solo il secondo lotto, rischia di compromettere la data di ultimazione dei lavori prevista inizialmente entro la Pasqua e quindi entro l'inizio della stagione turistica. L'amministrazione conclude il comunicato e già al lavoro per ridurre al minimo i disagi e si rivarrà in ogni caso contro la ditta incaricata. Ai nostri microfoni è intervenuto con una dichiarazione anche il sindaco d'Ischia, Enzo Ferrandino. I fatti che stanno coinvolgendo i lavori in corso di esecuzione lungo la via Antonio Sogliuzzo vedono completamente estranei gli uffici comunali e l'amministrazione dalle contestazioni che sono state mosse dai carabinieri alla ditta esecutrice del secondo lotto dei lavori stessi. Voglio ricordare ai cittadini che su via Antonio Sogliuzzo si sono in corso dei lavori di rifacimento dei marceppi divisi in due lotti. Sul primo lotto affidato a una ditta ischitana i controlli non hanno rilevato alcun tipo di vizio di esecuzione, mentre purtroppo ai nuovi nel secondo lotto sono state rilevate dell'infrazione delle illegittimità. Ho dato in carico all'ufficio tecnico e all'ufficio legale di tutelare l'immagine dell'amministrazione e gli interessi della pubblica amministrazione rispetto a questi fatti. A noi sono dispiaciuto perché il fermo, il sequestro del cantiere purtroppo non ci farà rispettare appieno quella che era la data di ultimazione dei lavori che era fissata per l'inizio della stagione turistica nella settimana santa di Pasqua o almeno rischiamo di non riuscire a rispettare questa data. Con l'ufficio ribadisco faremo l'impossibile per riuscire a completare i lavori quanto prima.